Musica Guardate quanto sono belli questi giardini di un'attività commerciale cervese. Fanno parte di un'iniziativa che è Angoli Fioriti. Musica Cervia ha lunghissime spiagge e delle pinete meravigliose con dei percorsi bike e pedonali davvero importanti. Le nostre attività sono partite proprio da qui, dall'ambiente, dalla natura e hanno creato questi angoli che sono diventati una fonte di benessere, di bellezza e di grande accoglienza per i turisti. Musica Ringrazio tutti gli esercenti, commercianti, ristoratori per aver reso questa città ancora più bella, una vera città giardino. Musica